Verità capitale, la presentazione arriva in terra a rettina e da aprile che lei ha portato insomma all'attenzione anche delle cronache questo libro, dico delle cronache non a caso perché insomma comunque si parte da un fatto di cronaca, ecco però quanto c'è di diciamo autocritica e quanto c'è anche di voglia di scuotere un po' la destra italiana con questa pubblicazione? Beh c'è tanto di tutto, questo è un libro che parte dalla vicenda romana, la vicenda della mia sindacatura e poi dall'inchiesta di mafia capitale per poi estendere il discorso a una critica complessiva della politica italiana, da un lato la pretesa e la sinistra di egemonizzare tutta la vita politica italiana in particolare quella romana e dall'altro lato la debolezza del centro-destra nel contrastare questa egemonia. Tutte le vicende che mi hanno riguardato e che poi si sono concluse con una richiesta di proscioglimento fatta nei confronti miei e di 116 persone fatte proprio dalla procura dimostrano che troppo spesso il centro-destra è timido e debole nel confronto con la sinistra. Sull'autocritica c'è, l'autocritica c'è nel senso di aver sbagliato alcune scelte di persone e anche di aver sottovalutato il sistema di potere della sinistra. Come si riparte allora a destra in questo paese? Si riparte facendo tesoro dell'esperienza. Noi dobbiamo essere consapevoli sia nella vicenda del governo Berlusconi sia nella vicenda mia che il centro-destra ha fatto meglio del centro-sinistra. Anche nella capitale se si confrontano i dati e la qualità della vita si vede che nei 5 anni in cui ho fatto il sindaco la qualità della vita era nettamente migliore non solo di Marino e della Raggi ma anche degli ultimi anni del sindaco Veltroni. Quindi da un lato facendo un giusto paragone e quindi rivalutando il lavoro del centro-destra. E dall'altro dando dei fondamenti forti con movimenti politici e partiti che sappiano affrontare la sfida e non lasciare soli coloro che stanno nelle istituzioni. C'è bisogno di cultura nella nostra terra, in terra retina. Cultura nazionale fa cultura anche con questo tipo di iniziative ma l'obiettivo è anche politico? Ma no, stasera facciamo un altro grande evento di cultura nazionale, abbiamo fatto tanti, abbiamo qualche settimana fa ospitato Francesco Storace, abbiamo ospitato tanti grandi personaggi, stasera annunceremo altri eventi. Cultura nazionale vuole dare la dimostrazione del fatto che la cultura non sta da una parte. La cultura è a tutto tondo, si parla di tutti, la cultura è patrimonio comune. Chi pensa che abbia le chiavi e l'egemonia della cultura si sbaglia, che noi stiamo a dimostrare il fatto che la cultura nazionale sta dimostrando che la cultura non sta da una parte, la cultura è patrimonio di tutti.